Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questo piccolo video dove vi illustrerò come attiverare la modalità grafica ridotta su Ubuntu 16.04 e versioni successive e guadagnarne in performance del sistema. Come ben sapete uniti a tante di quelle animazioni, tante di quelle trasparenze che nel launcher laterale, nella dash quando si preme la dash per cercare un programma, tante piccole animazioni che sui computer datati tendono a non essere molto veloci e quindi a dare l'impressione di un sistema poco reattivo, poco veloce. Con la versione 16.04.1 è stata introdotta anche sulla LTS questa modalità grafica ridotta che praticamente va a eliminare un po' di animazioni qua e là, un po' di trasparenze, quindi rendendo tutto più fluido anche sui sistemi datati. Attivare questa modalità è semplicissimo, la prima cosa che bisogna fare è installare il gestore della configurazione di Compiz, questo è il nome del pacchetto, installiamolo. Una volta installato questo pacchetto, installatelo come volete, io lo installo da terminare perché è più rapido. Andiamo a cercare Compiz, eccolo qui. Andiamo su Ubuntu Unity Plugin e andiamo a spuntare la voce Enable Raw Graphics Mode. Spuntiamo la voce, come potete vedere subito sulla nostra sinistra il menu laterale è diventato opaco, non è più trasparente. Stesso discorso anche per Redash. Noterete subito, specie sulle macchine datate, una maggiore fluidità, quindi il sistema vi sembrerà, e sarà anche il caso di dirlo, più reattivo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete attivata o l'avete magari già attivata quando è stato annunciato, perché questo post arriva con qualche ritardo dall'annuncio ufficiale, che cosa ne pensate se anche sulle vostre macchine ci sono dei miglioramenti. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci vediamo con un prossimo video al più presto. Bye bye.